Un bracere è acceso a rappresentare le fiammelle della tradizionale fiaccola e il ricordo delle vittime. È un fascio di luce blu puntato verso il cielo, ideale ricongiungimento agli angeli del terremoto. Questa è la cornice della commemorazione delle vittime del sisma del 6 aprile 2009, in una piazza Duomo deserta per l'osservanza delle disposizioni governative in materia di contrasto del contagio del coronavirus, dove si è svolta nella nottata di ieri la commemorazione. L'atmosfera quasi irreale e di silenzio totale nella piazza e nelle vie del centro storico non hanno comunque minimamente intaccato la partecipazione, seppure a distanza e dalle proprie abitazioni, della cittadinanza, che ha aderito all'invito pervenuto dai comitati dei familiari delle vittime del comune dell'Aquila ad accendere alla mezzanotte nei propri balconi, nei terrazzi, una luce a ricordo di quella tragica giornata. In piazza Duomo il prefetto dell'Aquila, Cinzia Torraco, con il sindaco del capoluogo per Luigi Biondi e con quello di Barisciano, Francesco Di Paolo, in rappresentanza dei comuni del cratere del terremoto, hanno presenziato all'accensione, da parte di un vigile del fuoco, del bracere posizionato di fronte alla chiesa di Santa Maria del Suffraggio, meglio nota come chiesa delle anime sante, simbolo di quel terremoto del 2009. Dopo l'accensione del bracere, il prefetto Torraco ha reso omaggio alle lapidi commemorative delle vittime del terremoto nella cappella della memoria della chiesa del suffraggio. E poi il sindaco dell'Aquila ha pronunciato un breve discorso al ricordo degli scomparsi nella contingenza dell'epidemia, dando anche lettura del messaggio pervenuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che presenziò alla riapertura di quella chiesa. La celebrazione della funzione religiosa, ufficiata poi da sua eminenza cartinal Giuseppe Petrocchi, arcivesco metropolita della città dell'Aquila, si è svolta a porte chiuse e al termine della messa sono suonati i 309 rintocchi del campanile della chiesa in memoria delle vittime del tragico terremoto del 2009.